Tutto rimandato a settembre. L'ultimo giorno di scuola non è stato in classe perché il Comitato Tecnico Scientifico aveva bocciato la proposta di mandare i ragazzi in aula per chiudere l'anno scolastico dopo tre mesi di didattica a distanza. Il parere negativo è derivato dalle difficoltà nel gestire il distanziamento sociale tra gli alunni, così i tradizionali saluti di fine anno sono stati diversi dal solito. Ancora una volta virtuali come le lezioni online di questi ultimi mesi, ma per rimediare all'allontananza forzata il sindaco di Fano Massimo Seri sta pensando ad un evento a fine giugno insieme a tutti gli studenti covid permettendo. Questo periodo hanno dimostrato grande responsabilità e grande senso del sacrificio perché sono quelli che hanno pagato forse il prezzo più alto, sono quelli rimasti più a casa veramente anche rispetto agli altri, quelli che avevano meno ragioni per poter scuse, per poter uscire. Quindi come tutti i fini anno ci si ritrovava con i ragazzi, lo siamo stati anche noi studenti, magari con la cena di fine anno, momenti di saluti, in particolare quando si concludeva un corso, quindi dopo gli esami o di stato, quelli delle medie superiori o quelli di terza media. E quest'anno purtroppo non è stato possibile, allora gli esami sono in corso e ho lanciato quest'idea, che niente di originale, anche altre realtà lo fanno, al termine degli esami mettere a disposizione la possibilità e degli spazi per potersi rivedere e salutare. Ovviamente questo deve essere accolto dai ragazzi e dalle scuole, noi siamo pronti perché siamo stati anche noi studenti, quelli sono momenti indelebili che ci porteremo dietro per tutta la nostra vita. Ancora da decidere date e luogo, ma si sta pensando ad un posto all'aperto come nel centro storico di Fano. Intanto il sindaco e l'assessore alle politiche educative, Samuele Mascarin, stanno lavorando al progetto e a breve sveleranno tutti i dettagli dell'iniziativa. Dico grazie a tutti i ragazzi per gli sforzi e i sacrifici che hanno fatto, faccio tanti auguri ai ragazzi che in questi giorni sostengono gli esami e donna rivederci per questo appuntamento di saluto con tutti i ragazzi a cominciare dai maturanti.